Il Maio ha dovuto in pochissimi mesi capire se era possibile chiudere l'Irba. Io questo che dice pevoli che l'Irba non poteva più continuare a inquinare in quel mondo. Il Movimento 5 Stelle è contrario a un'opera che non ritiene strategica. Ovviamente però le autorizzazioni sono state già date, vi dirò di più, vi dirò una cosa scandalosa, sono state perfezionate pochissimi giorni dopo il voto del 4 marzo.